Il capogruppo del PD al comune di Campobasso, Giose Trivisonno, insieme con le esponenti DEM, Alessandra Salvatore e Bibiana Chierchia, e il rappresentante della sinistra per Campobasso ed ex sindaco Antonio Battista, si chiedono, e la loro richiesta diventerà una mozione consigliare, con che criteri vengono determinati i lavori da eseguire sui marciapiedi di Campobasso. Il loro disappunto è stato sollevato dai lavori svolti di recente ad un marciapiedi in via Monsignor Bologna, 30 metri, completamente restaurati, in una zona dove gli altri sono devastati. I consiglieri hanno raccolto le osservazioni e le domande dei cittadini, che appunto non comprendono perché solo quel tratto di marciapiedi si è reso efficiente e addirittura piastrellato. I quattro consiglieri ricordano che si era detto che i marciapiedi di periferia si sarebbero fatti in asfalto, alla luce dei fatti, quindi via Monsignor Bologna diventa centro per questi 30 metri di marciapiede e resta una periferia quando si organizza la raccolta differenziata. Di certo, questi 30 metri di rifacimento lasciano perplessi perché sembrano fatti ad arte, rispondendo forse ad altri criteri e non quelli immaginati. La mozione chiederà quali le motivazioni e i criteri, chi stabilisce le priorità, come mai si parte da quel marciapiede e l'unico lavoro ritenuto necessario in zona. In attesa delle doverose risposte, godiamoci questa carrellata di marciapiedi devastati.